Gli stati moderni non sono stati, sono imperi, sono imperi proprio storici, cioè esiste un impero spagnolo, esiste un impero inglese, esiste un impero francese, esiste un impero portoghese, esiste un impero olandese. Sono stati in Europa, ma al tempo stesso sono imperi con proiezione extraeuropea. Sono imperi fondati sulla espansione dell'utile e sono imperi che hanno in sé la dimensione politica, diciamo pubblica per intenderci, e una fortissima dimensione privata. In uno spazio che non ha più fondamenti, se vogliamo dire con un altro termine, in uno spazio in cui non è più possibile capire che cos'è la giustizia, può capitare di tutto. Può capitare la purissima cittadinanza, può capitare il conflitto, può capitare la differenza. Stabilizzare la modernità è difficilissimo perché la modernità è vuota, ma al tempo stesso è piena di tutto. Il modo concreto con cui è esistito il potere politico moderno non è contenuto nei libri di filosofia politica, i quali dicono che dicono la verità, non è comprensibile se non da pochissimi. Il modo concreto con cui ha funzionato la politica moderna è stato un continuo rimbalzo, un continuo rimbalzo fra le istanze modernizzanti, nichilistiche finché si vuole, ma insomma progressiste, che stanno dentro le logiche dello stato moderno e al tempo stesso le istanze di dominio che provengono dalle colonie. Perché quegli stessi liberali che fanno i liberali nella madrepatria, o che fanno i giacobini nella madrepatria, fanno i colonialisti nelle colonie e amministrano le colonie non attraverso l'uguaglianza, ma attraverso la differenza. Voi direte, vabbè, finché restano separati spazialmente, ma il punto vero è che le tecniche di comando inventate nelle colonie rimbalzano nella madrepatria. Quando si tratterà nella madrepatria di rendersi conto del fatto che lo spazio interno non è omogeneo e che non è nemmeno lo spazio interno distinguibile attraverso un conflitto fra, poniamo, borghesi aristocrazia, ma che si va formando una spazialità interrotta, conflittuale, fra ceti dirigenti e popolo lavoratore. Allora la gestione dei lavoratori, visti come potenziale pericolo per l'ordine, sarà una gestione straordinariamente simile alla gestione coloniale, proprio con rimbalzo di tecniche da una parte all'altra. Questo lo vediamo studiando, ad esempio, i ceti dirigenti delle colonie, gli amministratori coloniali, quello che fanno, quello che dicono, quello che pensano, quello che scrivono, quello che suggeriscono. E voi trovate la continua, ecco, diciamo così, il suggerimento fondamentale è di segmentare, segmentare lo spazio politico interno delle madrepatrie, per evitare che quello spazio politico interno sia non lo spazio liscio della cittadinanza, non lo spazio rivoluzionario della guerra, della borghesia contro i privilegi, ma per evitare che quello spazio interno divenga lo spazio del conflitto di classe. La segmentazione vuol dire la utilizzazione di tecniche di governo, tecniche di neutralizzazione, tecniche di contenimento, che sono quelle stesse che nascono nelle colonie. Una delle frontiere degli studi storici, ma che in realtà è una frontiera, a mio modo di vedere, anche filosofica, è proprio l'analisi della ricca e complessa, interessantissima attività di amministrazione coloniale ad opera dell'Inghilterra, della Spagna, della Francia. L'incontro con l'altro in uno spazio moderno è un incontro che non è, ripeto, se non nel caso proprio di una posizione ultra raffinata, non è un incontro meramente neutralizzante di reciproco disinteresse, scetticismo, Montaigne. Non è necessariamente un incontro di sterminio, come è avvenuto, molto più ad opera della colonizzazione anglosassone che non della colonizzazione ispanica.